millenni fa allora io ce l'ho si può fare la collega c'è un magnifico piccolo libro è morto a Nienin Bukharin scrive fa un discorso in commemorazione di Nienin questo è stato pubblicato è una cosa molto bella bellissima è talmente bello che io l'ho fatto leggere ai nostri di origine stabilista e hanno detto che è bello e qui bisognerete che prendessimo un libro di Trotsky che sia la rivoluzione tradita, che sia uno qualunque anche qui c'è un piccolo articolo suo, un saggio in cui delinea i caratteri della deformazione burocratica sugli che può essere definita secondo me è fatto molto bene molto chiaro illustra perfettamente anche questo ovviamente io ce l'ho si può fare le fotografie quindi non lo so specialmente si chiama questo trattato? è un amico per Cors per esempio per Cors c'è un libro molto bello che è Massimo in filosofia ma ci sono anche la raccolta degli iscritti politici di Cors che era uno dei comunisti di sinistra quelli che insistevano molto sul tema dei consigli operai raccolta degli iscritti politici abbiamo detto si pubblicato da Fiorginelli anche questo centinaia di secoli fa però e io direi questo se qualcuno viene con me domani dopo domani allo studio mio vediamo quello che possiamo trovare di questi autori importante ma anche abbastanza rapido facciamo la fotografia ovviamente lì c'è una cartoleria di compagni che sono trovati in fotografia che anche stavano e così ci assicuriamo di fare un'altra cosa che è fondamentale questo per semplificare io propongo a Tiziano domani dopo domani Massimo di vederci per appunto per fare un lavoro Tiziano non per caso perché qui è fondamentale computer per l'individuazione precisa dei siti che noi dobbiamo controllare per la sua informazione eccetera dividerceli e per distribuzione di alcune traduzioni per esempio appunto i compagni in Sri Lanka ci hanno mandato un articolo sui tamir in inglese allora qui dobbiamo sapere chi è che termina la traduzione dell'articolo su Chomsky e per esempio facciamo conto lei termina quella traduzione allora lei ti ha aggiunto questo altro attivo per fare insomma per distribuire il lavoro in maniera che a settembre noi siamo preparati e non gradiamo su singoli contatti se gradiamo dovevo farle parte un'altra nel senso che penso che è più facile perché la l'individuazione è un pochino meno meglio di loro però senza dubbio posso tempo potrebbe essere da uno buono per chi lo fa perché è un bravo si si non non si fa lavoro perché sennò penso che sia quante immagine è questa io non lo posso prendere o uno lo posso anche sì vabbè comunque insomma io ho fatto questo esempio d'accordo qua se fa l'avevamo citato Gramsci e diciamo un libro di partenza per quale fare riferimento su Gramsci insomma se abbiamo da Lukas Stroski in Corci io direi addirittura si potrebbe fare il suo libro sul materialismo storico perché c'è anche la critica a manuale di Bocari quindi la presa in istanza dall'ortodossismo ma questo si dovrebbe trovare questo credo che sia più facile da trovare in Francia che edizione di ricordi? ma le edizioni sono solamente in audio o in audio o in editori allora forse la stazione editori riuniti lo pubblicò ogni economica in audio forse in audio va bene possiamo passare al capitolo di Marx beh perché sì 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 no no prima hai detto la faccenda del gruppo dice un gruppo e noi dobbiamo fare un gruppo teoretico io quest'anno non è che non l'ho capito tanto tanto bene perché insomma noi adesso sono 9 9 anni e stanno andando verso i miei che stiamo facendo questo lavoro e ogni volta abbiamo abbiamo avuto a volte c'erano 50 persone a volte c'erano 5 e c'è stato sempre un continuo rinnovamento dei compagni che purtroppo che succede che succede non so se sarà pericchia per noi però la faccenda è che come tu dicevi il tempo qua non so il tempo però io oltre il tempo mettiamo per esempio un tipo come come era come come era cosa sempre Hermano Hermano presente era uno interessato alla questione teorica però quando Maria finita la questione teorica si andava troppo a fare politica allora ha detto pure dicevo io non so allora quello che mi le conto che cosa intende no la domanda mia che cosa intende per un gruppo un gruppo teorico sempre funziona un gruppo teorico un gruppo di professori universitari che c'è una determinata ecco un gruppo di studiore un gruppo di studiore certo voi noi ne lo vorremmo perché io sono anni come ricorderai come ricorderai io molti anni fa sostegno la tesi che tu conoscerai finita perché il nostro gruppo è nato per mettere in circolazione un'idea no e cioè che la dialettica abbia a che fare con il citticismo e che fosse importante da fare a questo punto l'alternativa è duro o fai un gruppo di persone che studiano oppure anzi tre oppure fai un gruppo di persone che sono politiche chiudono oppure se non potrai fare un'idea di cosa io ho sostenuto molto tempo il nostro gruppo è finito perché non potrebbe diventare un gruppo di persone che studiavano ma non potrebbe neanche diventare un gruppo di persone che sono politiche perché non ti erano le condotte quindi secondo me amici come prima abbiamo fatto una bella esperienza che rivediamo quando era il caso ci fu una violenta per così dire reazione dei compagni dicessero no il gruppo deve continuare benissimo continuo e noi abbiamo continuato in un modo che non era nel carne e nel pesce perché non è un gruppo teoretico onestamente il terreno fa lezioni e gli altri prendono appunti che invece a quel punto diventa il terreno c'è la carta e gli altri sono studenti vengono fanno l'esame c'è un senso no oppure questi poi si preparano fanno il concorso diventano dottori di ricerca no ha un senso se no ma si tra l'altro Stefano noi potremmo dire di più noi abbiamo provato ad allargare ufficialmente questa iniziativa a compagni impegnati su piano politico sindacale soprattutto sindacale politico dell'organizzazione abbiamo sperimentato che non vienero con quel tipo di